Salve ragazzi, oggi cerchiamo di mostrarvi cosa contiene la scatola all'interno quando vi arriva il prodotto Il prodotto contiene una chiavetta wifi, praticamente, per collegare al computer Il joystick in wireless, eccola, prima di tutto Poi contiene il cavo, il cavo USB per connettervi al gioco E poi, praticamente, trovate, ovviamente, il joystick in sé Adesso guardiamo meglio, guardiamo meglio cosa contiene l'altro al suo interno Oltretutto trovate un libretto, un libretto con le istruzioni E poi, ovviamente, la scatola rimane vuota Che trovate, praticamente, le istruzioni, tutto per quanto riguarda l'uso, come si usa Vedo che c'è anche un adesivo Un adesivo dove, non so dove cazzo lo applico, ma lo applico da qualche parte E poi, ovviamente, un altro libretto Alla fin fine, adesso guardiamo il joystick Come è fatto, per esempio, quando è arrivato In che stato è? Il joystick è un ottimo stato, da quel che si vede Era difficile da togliere dalla scatola Perché, comunque, era proprio messo in una maniera sigillatissima Proprio in maniera sigillatissima Dopodiché, si presenta molto bene Molto bene in generale Anche per quanto riguarda i tastini I tastini sono molto morbidi Anche le levette sono veramente ben funzionanti e tutto il resto Ringrazio... Ah, già funziona con la batteria carica Perfetto, c'ha già la batteria carica Questo è un plus Perché così potremo dopo provarlo Ovviamente non sarà nel video che adesso pubblicherò delle prove e tutto il resto Però, più o meno, adesso sapete cosa contiene la scatola La scatola contiene Tornando al discorso La chiavetta Contiene USB Contiene libretti più adesivo E contiene, ovviamente, il joystick, quello che cercavate Sia con cavetto Sia con la chiave Vi ringrazio tutti quanti da Lord Instructors E ringrazio soprattutto per consiglio Amazon Per questo joystick Alla prossima